Quando arriverà la neve? Ma sai, quest'anno è molto probabile che arrivi in novembre, dicembre, perché è il terzo anno consecutivo, quindi un evento eccezionale, in cui siamo in compagnia della Nigna. Che cos'è la Nigna? La Nigna è un anomalo, un raffreddamento delle acque del Pacifico Tropicale, un'area grande quanto il settimo del pianeta, che fa risentire poi la sua influenza su tutto l'emisfero nord. Nel 60% dei casi degli ultimi 30 anni in cui c'è stata la Nigna ha nevicato in novembre e nel 75% dei casi in cui in dicembre c'è stata la Nigna ha nevicato in dicembre, quindi anche quest'anno speriamo capiti qualcosa. Dirò di più, nel 2020 ha nevicato in dicembre, il 2 di dicembre, il 25 di dicembre addirittura una bella nevicata il 28 di dicembre. Nel 2021 l'hanno passato dietro all'angolo, ha nevicchiato qua e là tra il 5 e il 15 di novembre, in pianura intendo dire, ha nevicato in pianura, poi il 29 di novembre e poi una bella nevicata su tutto il nord d'Italia, il giorno dell'innappolata, l'8 dicembre. Ve lo ricordavate? Io sì. No, io lo ricordo. Brava, brava. Io lo ricordavo. Grazie Mario. Grazie a te.